La vittoria di Elish Lane segna un cambiamento, così come ha detto bene Conte. Si può riprendere una sfida ecologista progressista di innovazione, ma è anche vero che questo va fatto sui contenuti, ecco perché è giusto aver posto il tema della pace, il tema della transizione ecologica e digitale, dei diritti e del sostegno alle persone più in difficoltà, del salario minimo e il no a un'autonomia differenziata che rischia di spaccare il Paese, ecco perché si riparta con forza questa scelta del primario del PD, una netta sconfessione della disastrosa gestione di letta che ha consegnato alla destra il governo di questo Paese, bisogna riprendere da quell'area ecologista progressista a cui Conte fece riferimento appena uscito da Palazzo Chigi dentro la piazza dopo il Conte 2 che era stata un'esperienza di svolta ecologista e progressista in questo Paese.